Lasciami dire, nel futuro, io credo, e è una mia opinione, che la giustizia sociale emergerà non più dalla violenza, ma dalla totale sincerità tra uomini e donne. E quindi, come premessa, ti devo dire una cosa che devi sapere su di me, ma non prendermi in giro, il mio nome non è Agatha, ma Agapantus. La seconda cosa è che... Ma, che fai? Che aspetti? Su, spogliati. La seconda cosa è che... Ho frequentato Cambridge e sono vergine. Evviva, l'ho detto! Mio padre è procuratore legale e io farò l'avvocato.